Cara sorellina, stiamo morando di fame. Torna a prostituirti. Kenta. Teco. Figliola, smetti di prostituirti. Lo farò solo ogni tanto. Un medico condotto deve avere buone gambe. Se se ne rompe una, deve correre sull'altra. Sono innamorata di lei, dottore. Anche tu hai l'intero, ragazzo mio. Potremmo che si tratti di epatite. Non c'è alcun dubbio, questa è epatite. Secondo me questa è epatite. Chi di voi è il dottor Fegato? E se se le rompe tutte e due, deve correre sulle mani. Idiota! Non c'è più niente da fare. Se n'è andata. Aiuti. Sono qua. Ma che è un fissato? Lo chiamano dottor Fegato? A sentire voi soffrono tutti di epatite?